Il finale già scritto di un progetto Agitamus che è ancora in itinere, lo facciamo con questo signore, mi sa che Agitamus è stato definito quasi uno tsunami. Cosa ne dice il nostro psicologo Manolo Cattari che vediamo con una maglietta abbastanza fuori ordinanza? Voi cosa ne dite? Sì, uno tsunami, bellissimo, noi siamo felicissimi, l'Albatross da tanti anni che si muove nelle scuole, che porta il valore dell'inclusione raccontando la loro storia, i ragazzi hanno girato veramente le scuole di mezzo a Sardegna e il fatto che il CIP ci abbia dato la possibilità di far estendere questo percorso a livello regionale così capillare è per noi un onore. Io in questo momento mi sento molto Agitamus, mi sento molto Albatross e penso che molto tsunami, i tsunami sono loro, io li cavalco un po' però fanno tutto loro. Insomma bellissimo, bellissimo. Voi che dite? Sì! Grazie. Agitamone, 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 un presidente! Esistiamo un presidente! Un presidente! Esistimo un presidente!